Vi siete mai accorti di quante immagini dipinte ci circondano? È per questo che sono qui. Io sono curatore d'arte in una galleria. Scelgo cioè le opere che gli altri andranno a vedere. La mia missione è segnalare cosa vale la pena guardare e spiegare perché l'arte è così importante. Perché è provocazione, sfida e gioia. Cambierò il vostro modo di osservare le cose. Partite con me per questo viaggio nella creazione artistica. Ora vedrete il mondo con occhi diversi. Musei e gallerie sono il posto giusto per ammirare quadri e dipinti. Peccato che le opere in mostra non siano in vendita. L'arte è fatta per essere vissuta e ammirata nel tempo. Ma è anche decisamente costosa. Forse troppo per molti di voi e per me. Oggi faremo un giro nel mercato dell'arte il mondo dei mercanti d'arte. Ma per poterci avvicinare, quanto deve essere gonfio il nostro portafogli? Ma serve davvero il portafogli? O si può anche solo guardare? Per prima cosa, cerchiamo le opere di artisti noti. Quelli che si sono fatti largo nel settore. I grandi artisti di solito si trovano in grandi gallerie. Ma non perdetevi d'animo. Ora non è più così, ma quando venni qui la prima volta alla Sue Crokeford Gallery, ero nervosissimo. Suonare il campanello e varcare quella soglia è come passare dalla classe turistica alla business. Un artista ha voglia di mostrare il proprio lavoro. Per cui, se non vi sentite a vostro agio, sappiate che chi espone è felice di avervi lì. Tutto funziona come in un museo, tranne che per dei puntini rossi accanto alle opere che indicano quando qualcosa è stato venduto. Ma alcuni mercanti d'arte hanno iniziato a escludere anche quelli, perché rovinano il divertimento. Un po' come il prezzo di un immobile. Mantenere una trattativa riservata è un po' come dire se chiedi il prezzo, non te lo puoi permettere. Una volta dentro, si è liberi di guardare le migliori opere d'arte in circolazione. E spesso si hanno l'intera stanza e i dipinti tutti per sé. Questo è il leggendario Gordon Walters, una gioia immensa. Un pittore musicale. E questo è un dipinto che si può quasi ascoltare. La nota di apertura, un solo punto di colore su uno sfondo bianco. E poi tre rapide sequenze di note. Il cerchio rimbalza lungo queste barre, come se stesse tamburellando su una tastiera. E mentre Gordon Walters è alle tastiere, Julian Dashper si mette alla batteria. Quest'opera stratta è dipinta su una pelle di tamburo. Dashper ha realizzato un dipinto che salta subito agli occhi. E qui John Reynolds cattura la nostra attenzione con una grande ragnatela. Da un lato, queste linee cucite insieme lungo la superficie sembrano esprimere il desiderio di muoversi per trovare delle connessioni e tessere un significato sullo spazio vuoto. Ma allo stesso tempo, esprimono il semplice piacere di viaggiare senza meta e sentirsi piacevolmente persi. L'arte è un grande business. Se pensiamo che un'opera di Gordon Walters può far incassare 250.000 dollari, è facile capire perché la gente investa nei dipinti. Le gallerie dei mercanti d'arte sono solo uno dei posti in cui comprare. Se volete qualcosa di un po' più avvincente, vi consiglio le grandi aste, dove il prezzo dell'opera viene negoziato apertamente. Acquirenti importanti per dipinti importanti. Per i proprietari e fondatori di Art & Object è una scommessa. Siamo molto sotto pressione. Abbiamo dei dipinti di altissimo valore. Ce ne sono un paio stasera che sfiorano i 250.000 dollari e questo la dice lunga sugli artisti. Non ci sono piccoli nomi in questo catalogo. Solo dipinti rari e famosi, di grosso calibro. Il mondo dell'arte guarderà come viene venduto Shane Cotton oppure il Richard Keeling o i due a McCown e naturalmente Michael Smeter. Con quello che valgono questi dipinti potreste comprare una casa in città o una villetta in periferia. 34.000 dollari per Richard Keeling. 35.000. 35.000. 37.000. Ha inizio la battaglia. Ha giudicato per 37.000. Questi dipinti potrebbero non tornare mai più sul mercato. Per l'opera di Colin McCown, 100.000. 110.000. 130.000. 140.000. Si è di Shane Cotton. Siamo a 120.000. 130.000. 140.000. Si chiude a 150.000. Michael Smeter. Ragazzi con fucile di plastica rosa. Si parte da 100.000. 110.000. 130.000. Siamo a 145.000 dollari. 165.000. Ha giudicato. Una serata molto proficua, ma solo un giro di ricognizione per una famosa collezionista, Jenny Gibbs. Ciao Justin. Ciao Jenny. Entra pure. Grazie. Jenny ha una delle collezioni d'arte più ricche del paese. E la sua casa è la sua galleria. Come hai iniziato a interessarti all'arte? Che cosa ti ha spinto? Ci sono cresciuta in mezzo. Mio padre era un artista, come mio nonno. La mia famiglia ha sempre avuto opere d'arte in casa, anche se nessuno si è mai considerato un collezionista, ma piuttosto qualcuno che acquista quadri. Quando poi non hai più pareti dove appenderli e cominci a riporli negli armadi, allora ti rendi conto che sono tanti. E tu continui ad acquistare? Sì, acquisto un paio di opere l'anno, soprattutto dai più giovani. Ho già tanti artisti della mia generazione qui con me, ed è quando vedo un giovane promettente e interessante che tendo a innamorarmi di nuovo. Ci sono delle caratteristiche particolari che ti catturano. Da cosa si riconosce il valore? Basta allontanarsi da un'opera. Se ti rimane in mente, allora è quella giusta. Quella che non ti fa andare via. Ed è chiaro che un artista, più di tutti, è rimasto nella mente di Jenny. Bill Hammond, con i suoi eleganti uccelli. È stato amore a prima vista. Quel giorno non avevo assolutamente intenzione di comprare nulla. Avevo già alcune sue opere. Poi ho dato uno sguardo a questo e ho pensato, wow, che capolavoro. Un uomo di grande talento. Una tela di lino grezza, a mano libera, difficile da realizzare, dove non c'è possibilità di errore. Insomma, guardalo. È pieno di equilibrio. Cosa si può chiedere di più? Cosa si potrebbe fare di più? Penso sia un vero e proprio capolavoro. Ti piace? È incredibile. Se non sai dove appenderlo, potrei prenderlo io. Ma certo. Pensavi alla tua galleria, giusto? Esatto. Non a casa mia. Oh, allora sarei felice di affidarlo alle tue cure, Justin. Le gallerie d'arte sono i luoghi ideali per vedere le opere dei migliori artisti. E se da un lato il grande giro di soldi può intimorire, molti appassionati collezionisti sono lì. Sanno bene che l'opera d'arte più emozionante attende ancora di essere catturata. Ma è necessario aguzzare la vista. Quando si va in giro per gallerie, è facile pensare che siano troppo eleganti e lussuose per i comuni mortali. Ma se siete a caccia di novità, sono il posto giusto. Bisogna riuscire ad andare oltre l'aspetto estetico e dare un'occhiata anche all'interno. I mercanti d'arte qui sono molto legati al culto del bianco. Si cerca di dare un aspetto austero, con dipinti appesi su pareti bianche e pavimenti in pietra levigata. Come sarebbe il foyer del paradiso se Dio fosse minimalista. Non tutti i prezzi sono fuori dal mondo. Allo stesso prezzo di un televisore potrete avere uno di questi. E un dipinto consuma meno energia. Qui ci sono piccoli lavori di grandi talenti. Fondamentalmente si tratta di una variante elegante del classico cash and carry. Un'immagine chiara di a che punto è l'arte oggi. Alla portata di tutti. La combinazione di stili diversi permette di osservare e confrontare. Nessuno dice cosa deve piacerti. Sta a te decidere. Il paesaggio di Michael Hyatt vive sulla stessa parete di un astratto di Antonio Murado. E sopra di loro questa gotica e metropolitana coppia nell'usturioso dipinto di Richard McFonnell. E per il minimalismo di Frank Nitsch non dovete neanche sollevare lo sguardo. Questi artisti oggi sono tutti molto noti. Ma non lo sono sempre stati. Come hanno fatto però a farsi notare? Che cosa li ha fatti diventare artisti emergenti? I migliori mercanti sono anche Talent Scout. Sempre alla ricerca di pittori con quel qualcosa in più. Un bel po' della mia voglia di conoscere sempre nuovi artisti ha trovato terreno proprio qui. Nella galleria di Ivan Anthony. Ivan se ne occupa da 15 anni. Ivan? Justin, è un piacere. Lui cura artisti tra i più audaci. Da Bill Hammond, che è stato richiesto per quasi 20 anni, a uno degli artisti più provocatori, Rowan Wellens. La gente vorrebbe arte inattaccabile, ma io non sono d'accordo. Voglio che provochi, voglio che sia forte, voglio che sia in grado di scatenare una guerra. Il suo rapporto con l'artista va oltre il solo vendere quello che produce. Ci tengo ad avere un buon rapporto con i miei artisti. Ad alcuni piace prendere le distanze, per esempio. È come un meccanismo di protezione, perché si vive molto tempo insieme e si ha a che fare con le persone su diversi livelli emotivi. Loro mettono pezzi di se stessi su carta o su tela e poi li danno a voi, perché li consegnate al mondo. Si tratta di un grande atto di fiducia. Se la fiducia si rompe, si rompe anche il rapporto. Ho sempre valutato gli artisti non soltanto per il loro lavoro, ma anche per il loro carattere. Se hai a che fare con nuovi artisti che stanno emergendo, devi ricercare qualcosa nella loro personalità. È lì che trovi il segnale che sono in grado di far esplodere tutto il loro potenziale. Ivan, che ha talento nel trovare artisti formidabili, ha appena chiuso un altro ingaggio. Quando Georgie Hill è arrivata qui, ho visto il suo lavoro. Ed era puro, intenso, una macchina perfetta. È stato immediato per me. Gli ho dato un'occhiata e ho capito che era fatta. Qualcosa che non vedevo da tanto tempo. Ivan cura i più grandi artisti della Nuova Zelanda. Se Georgie Hill l'ha colpito tanto, devo incontrarla. Quando ho iniziato a esporre in questo nuovo spazio, sono stata letteralmente assalita dall'ansia. E stupisce molto anche me. I suoi dipinti non vi chiamano a gran voce. Per ascoltarli dovrete avvicinarvi e verrete catturati dal dettaglio. Tutto è così finemente bilanciato che avrete paura anche solo di parlare. Come dovrebbe rapportarsi uno spettatore? La proporzione, i dettagli e la delicatezza costringono lo spettatore a doversi avvicinare al quadro. Mi piace questo rapporto profondo. Ed ecco che veniamo catturati dal lavoro di Georgie. Queste linee disegnate a mano sono coinvolgenti. La pianta dà vita a terminazioni nervose dalle quali fiorisce una folta chioma di capelli. Un acquerello che sanguina su fragile carta. Sono attratta dagli acquerelli per la loro fluidità e delicatezza. Ma mi piace sconvalgerne l'utilizzo in maniera audace e inaspettata. È l'alto rischio che corre che mi colpisce. Una mossa sbagliata del pennello e sarebbe la fine di tutta l'opera. Distinto, un'altra parola che mi viene in mente è ossessione. Trovo che come termine sia corretto. In un certo senso mi reputo un'artista abbastanza ossessiva. Lo sono sul mio modo di fare le cose e mi piacciono le persone come me. L'ossessione paga. Per me i dipinti di Georgie sono come spazi della mente, camere oniriche dove tutto scorre e si collega. Sono dipinti come non ne ho mai visti prima. Per vedere i dipinti degli artisti più affermati bisogna esplorare le grandi gallerie. E se volete acquistare qualcosa, fatelo. Ma di quanti soldi c'è bisogno per avviare una collezione? E dove si possono andare a spendere? Se volete vedere dipinti di artisti che hanno fatto la storia, li troverete nelle gallerie pubbliche. Ma se cercate degli artisti in ascesa, le gallerie e gli atelier sono il posto giusto. Spesso i quadri sono oggetti di culto. Quando un'opera è esposta, quella potrebbe essere l'unica possibilità di vederla prima che scompaia nel soggiorno di un collezionista o nella stanza di un rimenditore o nel triangolo delle bermuda delle collezioni d'arte. Per alcuni è addirittura inutile tentare. Ma per essere sicuri di non perdersi nulla, bisogna buttarsi nella mischia. Cosa poi non troppo difficile. A Auckland ci sono decine di gallerie, ma dovrete camminare un bel po' per scovare e trovare qualcosa di interessante. E se siete alla ricerca di novità, dovete trascorrere un po' di tempo qui, nella vecchia e sporca Key Road. Molti locali per adulti sono sopravvissuti all'arrivo delle gallerie d'arte. E anche la Starquite, la nostra prossima meta, una volta era un centro massaggi. Ora è un posto in cui si può ammirare arte decisamente innovativa. Conoscete già la hop art e la pop art? Qui troverete la globe art. Pittori come Sang Yu Lo hanno liberato i quadri dalla cornice per far sì che rivelino tutte le proprietà fisiche e si intrecino con altre forme e altre tecnologie. Il lavoro di Sang è ordinario, bizzarro, infantile. Tutto in senso buono, ovviamente. Sono occhi, budini o forse dei seni. Certo, sono elementi nuovi da osservare e studiare. E non possiamo andare via senza notare questo piccolo lavoro di Peter Stitchbury. Un dipinto su una palla della sua suora preferita, il critico dell'arte sorella Wendy. E dietro l'angolo ecco un'altra artista, Christy Wade, che ha realizzato opere decisamente originali. Abbiamo l'idea che per essere seria l'arte debba essere cupa. Ma la parola che mi viene in mente guardando questi dipinti è gioia. È presente nei colori brillanti e imprevedibili che volteggiano tra il naturale e l'artificiale. L'alluminio dona leggerezza. Così i colori brillanti e le forme stesse restano leggeri, come un paesaggio in assenza di gravità. Queste strane e ricercate figure di ispirazione biomorfa sembrano tutte impegnate in una particolare danza. ecco quella che io definirei un'artista emergente molto promettente. Il lavoro di Christy è nuovo sulla scena. Chi comprerà i suoi dipinti? Chi può permettersi oggi di collezionare arte? Lo chiediamo a un appassionato collezionista nonché artista emergente. Come pittore, Simon Eslin ama prendere oggetti impensati e metterli sulla stessa pagina. Come collezionista, raccoglie tanti oggetti vivaci in uno spazio. Questo sembrerebbe un appartamento qualsiasi, ma guardandosi intorno ci accorgiamo di un gran numero di oggetti molto interessanti. Quante opere possiedi? Se non mi sbaglio, almeno una cinquantina. Cinquanta opere? Non sembri tanto vecchio. Quando hai cominciato ad accumularle? Ho ereditato circa diecimila dollari da un prozio e ho pensato di investire in qualche opera d'arte. Così ho iniziato con una litografia di Bill Hammond. Molte grandi collezionisti si contendono le opere di Hammond. Un bel colpo per un giovane amatore. Quanto spendi in media? Se sono fortunato, trovo opere di artisti emergenti o studenti appena laureati che vanno dai cinquecento ai mille dollari. Ma alcuni dei dipinti nascosti qui valgono molto di più. Sembra una sorta di paesaggio fantascientifico, vero? Sì, esatto. È di Rohan Wellens, strati di pittura poi squarciati. È stato il tuo primo Wellens? Sì, aveva appena vinto il premio Waikato. Rohan è diventato famoso nel 2003 vincendo il premio d'arte Waikato con un'opera che riproduceva genitali femminili. Questo appartiene a quella serie. Ha avuto diversi problemi? Sì, ha attirato parecchia attenzione, ma io dovevo acquistarlo prima che salisse di prezzo. Non tutti lo appenderebbero in sala da pranzo. Stranamente, alla mia ex compagna non piaceva. Non avevo il permesso di tenerlo in casa. Da quando ci siamo lasciati, l'ho potuto sistemare qui. Vedere queste opere in casa di Simon non è come vederle in un luogo pubblico. Qui l'arte si mescola alla realtà e agli oggetti quotidiani. Si crea una certa intimità con le opere che non si può avere in un contesto pubblico. L'arte entra in contatto con la tua vita, nel quotidiano, mentre mangi o guardi la TV. Laggiù c'è quel piccolo dipinto di Genevieve Allison che non si può non notare. Si può camminare accanto alle opere e ignorarle finché all'improvviso arriva il giorno in cui senti di nuovo il brivido che avevi sentito la prima volta. La voglia di collezionare arte va di pari passo con la sua realizzazione. Vincendo 15.000 dollari con il premio Waikato, Simon sapeva come avrebbe speso quel denaro. Per un collezionista come me, dal budget limitato è stato un colpo di fortuna. Sono salito sul podio, ho ringraziato e sono andato a comprare un'opera di Tim Thatcher. Cosa ti piace di questo? È molto accurato. Penso che gli artisti sappiano quando fanno un buon lavoro e Tim sapeva che questa era un'opera importante e lo sapevo anch'io. Cosa significa possedere opere d'arte? È l'idea di avere qualcosa di unico. È una battaglia entusiasmante tra quello che posso permettermi e quello che non posso permettermi, quando posso permettermelo e quando non posso. Non è come andare a comprare scarpe da tennis o come spendere dei soldi per una macchina. Non è un investimento per me. È solo l'emozione di trovare una nuova opera. Le gallerie d'arte sono piene di arte innovativa. Troverete le opere più originali degli artisti più conosciuti come i lavori di pittori in ascesa. Basta andare e osservare l'arte con la stessa passione che gli artisti hanno impiegato per realizzarla. Ci sono persone che acquistano arte per investimento, per far bene alle loro finanze, non per il puro piacere. Perciò l'arte non è solo qualcosa di nobile. Arte e mercato infatti non possono essere separati, ma cuore e anima sono sempre necessari. Senza di loro l'arte non esiste e quando si scaldano non serve nient'altro, credetemi.